Questo momento particolarmente complesso ci porta a ripensare anche le modalità attraverso cui lavoriamo insieme agli altri e collaboriamo con gli altri. Ecco che questo ci pone varie sfide indipendentemente da quella tecnologica e la prima sfida è sicuramente quella del coordinamento, ovvero diventa molto più complesso coordinarsi in una situazione virtuale. Questo perché chiaramente non abbiamo la possibilità di avere degli scambi molto più spontanei vis-à-vis in cui il coordinamento viene reso più fluido e più semplice. In questo caso quello che possiamo fare è darci delle routine di coordinamento, ovvero darci delle routine su come comunichiamo, quando comunichiamo, quanto frequentemente, darci in qualche modo delle regole e questo può particolarmente aiutare a stabilire dei momenti di connessione particolarmente efficaci. Il secondo punto è legato alla comunicazione. Non essendoci più quella comunicazione spontanea che viviamo nei momenti di vis-à-vis, quello che diventa più difficile è l'interpretazione del messaggio. Questo perché? Perché generalmente in situazioni virtuali tendiamo ad interpretare i messaggi molto più negativo. Ci sono più situazioni di misunderstanding, di fraintendimenti. Questo perché generalmente mandiamo messaggi più brevi, quindi più difficili da interpretare e questi messaggi più brevi e più difficili da interpretare sono spesso seguiti da ulteriori messaggi di follow-up, quindi mando una mail molto breve, poi mando un whatsapp per vedere se la persona ha ricevuto la mail, poi faccio una telefonata e così via, rendendo ancora più complessa quella che è l'interpretazione. Soprattutto quando abbiamo una diversità molto ampia, perché? Perché ognuno di noi vede il mondo con una lente diversa. Quello che possiamo fare in questo caso è riflettere molto di più sul messaggio che mandiamo, quindi fare attenzione a definire cosa si vuole dire in quel messaggio e che tipo di reazione, di feedback si vuole avere dalla controparte. Ad esempio, se è un messaggio che richiede risposta, che richiede un'azione, richiede un follow-up e così via, questo dobbiamo renderlo ancora più chiaro. Il terzo punto, diciamo in termini di sfide, è quello dell'isolamento. Questo perché? Perché in situazioni virtuali chiaramente ci troviamo più isolati, ci troviamo meno in contatto con gli altri e molto spesso in questi casi dimentichiamo le relazioni one to one. Ecco che diventa molto importante saper scindere una comunicazione legata al compito e quindi tutte quelle comunicazioni che sono legate al compito da quelle comunicazioni che spesso ci dimentichiamo in ambiente virtuale, che sono legate alla gestione della relazione interpersonale e quindi non dimenticarsi della relazione one to one che abbiamo con gli altri. Ecco che questi tre punti possono essere dei punti sicuramente che non risolvono il problema, così come lo risolve la tecnologia, ma sicuramente possono aiutarci a gestire meglio le nostre relazioni virtuali. Grazie.